Io e Anna Camminavamo per i corridoi del museo, mano con la mano. Tu volevi toccare tutto, i quadri, le sculture, però non potevi farlo. Non si può farlo in un museo, ma dovevi farlo perché tu sei così. È la tua condizione per conoscere, il tuo modo per scoprire il mondo, le cose che ti circondano. Io ti tiravo cercando di spiegarti quello che vedevo, ma a te non bastava. Volevi toccare, ma non potevi toccare. E mi tiravi. E come mi tiravi per toccare, ma non lo potevi fare. Il guardiano ci osservava. Io l'ho visto, sì, l'ho visto. Ci osservava nella nostra diatriba. E sorrideva. Sorrideva e annoiva. Era un cenno? Sì, lo era. Anna, tocca, 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 tocca.